www.marizopoli.it, oggi un po' di storia, si parla sempre di criptovalute, di bitcoin, di eterno, però la storia della moneta. Oggi si apre Iunius, mese dedicato a Giunone, madre degli dèi e degli uomini. Una delle sue epiclesi, cioè l'attributo con cui la si invocava, è moneta, dal verbo monere, che vuol dire ammonire. Sotto la sua protezione fu posta la prima zecca della città, costruita sul Capidoglio, uno dei più piccoli colli di Roma, e col tempo il nome della dea passò a indicare gli oggetti prodotti nell'edificio, le monete. La fonte è della professoressa Lea Cimino, professore di etruscologia presso l'Università Pressanieri di Siena. Qui poi vi riporto le fonti a base. La moneta, ora lo sapete. Alla prossima!